Spesso su Breaking Italy facciamo notare come un certo tipo di notizie tendono a uscire dal ciclo delle news a prescindere dalla loro importanza e siccome è quello che da qualche mese sta succedendo anche all'Ucraina, oggi vorrei dedicare un pezzo della puntata a un approfondimento sulla situazione politica interna al paese, che essendo tutto meno che rosea finisce poi per interessare anche noi come occidente. C'è più un discorso interessante da fare con il modo con cui etichettiamo i negozi gestiti da persone che occidentali non sono e che alcuni definiscono sprezzante, mentre in apertura io ve lo dico, ci focalizziamo sull'evento che monopolizzerà l'Italia per tutta questa settimana, ovvero Sanremo, che inizia oggi. Questo perché senza neanche essere iniziato il festival è già stato accusato, come ogni anno, di essere troppo politico, perché Amadeus troppo po' basta, Amadeus come Taylor Swift, io qui l'ho detto, basta, io me ne vado perché c'ho una puntata da fare, però dopo me ne vado, quando è finita la puntata. La polemica stavolta ruota senza troppe sorprese sulla notizia che sta monopolizzando da giorni la cronaca nostrana, ovvero le proteste degli agricoltori. Questo perché ieri, nella conferenza stampa della vigilia, Amadeus e Fiorello hanno espresso sostegno per la causa, inquadrando la protesta come giusta e sacrosanta e spingendosi persino ad auspicare che se qualcuno degli agricoltori dovesse contattare l'organizzazione potrebbero persino essere invitati a salire sul palco, plausibilmente per dire la loro e utilizzare il parco scenico dell'Ariston come megafono per spiegare le loro ragioni. A questo punto però comincia una sorta di cortocircuito con la stampa di destra che si scaglia contro Amadeus con titoli come questo, Amadeus sui trattori, oppure ancora Sanremo sale sui trattori, con l'argomentazione principale che è quella solida, mi sembra, di ogni anno. Sanremo e Sanremo, il festival della canzone italiana, non in una manifestazione politica, eccetera. Polemiche che si erano particolarmente inasprite l'anno scorso, vi ricorderete, con tutta la questione Fedez, Rosa Chemical, ma non solo, sino a inquadrare il festival come una sorta di spot della sinistra, salottare radical chic. Cioè, quella che dice a questa destra, per anni ha avuto il monopolio culturale del paese e che ora si vorrebbe strapparle via. Sono temi, sono temi interessanti, che... sono temi, questo io voglio... cioè, che... Allora, il punto. Ovviamente queste polemiche, polemicone, sono sempre dimentiché del fatto che il palco è sempre stato utilizzato in quel modo, anche per esprimere le politiche, perché tutto è politica, la vita è politica, ed essendo Sanremo prima di tutto uno show, una produzione culturale, bene si presta a dare spazio a questioni, proteste e polemiche che in quel momento vengono percepite come molto attuali. E non c'è niente di più attuale dei trattori, che circolano nei centri abitati del nostro paese da giorni e giorni. Detto questo, però, il cortocircuito si attiva quando consideriamo che il leader del Comitato degli Agricoltori, Danilo Calvani, che ha annunciato in seguito all'apertura da parte di Amadeus, che sì, un loro rappresentante salirà sul palco. Ve lo dico, se non sale col trattore, io non sono d'accordo, ma se mettono Andiamo a Comandare, come canzone, allora basta. Il punto è che Danilo Calvani è in realtà anche l'ex leader del cosiddetto Movimento dei Forconi, quello che nel 2013 era divenuto un movimento populista antigovernativo molto diffuso, a tratti anche piuttosto confuso nei suoi obiettivi, e che soprattutto era caratterizzato da un impianto organizzativo di estrema destra, per dire Calvani è lo stesso che aveva definito Nichi Vendola, che è noto per essere molto aperto sulla sua omosessualità, come contronatura e che aveva all'epoca auspicato governi militari. Ed è plausibile che sia stato anche il suo essere una figura molto controversa a spingere la RAI a prendere le distanze con un comunicato, dicendo in sostanza che il festival non ha avuto alcun contatto con le associazioni degli agricoltori, nonostante Amadeus abbia comunque ribadito la sua disponibilità. Nel senso, siamo ben lontani dal radical cicchismo, questo sto cercando di comunicare. Fate conto che la percezione della protesta come un avvenimento molto importante non è legato solo a Sanremo, anzi, il fatto che sia arrivato sino all'Ariston è il sintomo di quanto sia sentita, e nella prova diretta il fatto che la Commissione Europea abbia annunciato oggi stesso l'intenzione di ritirare la proposta di legge per il dimezzamento dei pesticidi, che era uno dei punti chiave al centro della protesta, ne abbiamo parlato. Il punto, insomma, è questo. La Commissione ritira la proposta, Amadeus invita sul palco gli agricoltori, la società e il governo chiudono un po' un occhio sulle valutazioni più pragmatiche che sarebbero forse necessarie per valutare l'opportunità delle proteste, perché non è che le nuove regolamentazioni si sarebbero volute applicare perché l'Europa è cattiva, ci sono delle ragioni oggettive. Il punto è questo. Chi ci guadagna ora non è solo il comparto agricolo, ma tutto quel settore produttivo che in futuro dovrà inevitabilmente essere impattato dalle misure di contrasto al cambiamento climatico, ma che quando quel futuro arriverà avrà un grande precedente nel successo di queste proteste, che hanno mostrato come la società e i governi siano molto vulnerabili a un certo tipo di manifestazioni. In tutto questo c'è molto poco di sinistra, molto poco radical cicchismo, ma tanto alla fine l'importante è sempre la narrazione e con ogni probabilità, a meno che gli agricoltori sul palco non si bacino in bocca, di un loro intervento si parlerebbe eventualmente molto poco. Ora proseguiamo con un bel po' di cose importanti sul conflitto in Ucraina, come dicevo, che non dobbiamo dimenticarci non tanto per buon cuore, ma perché ci riguarda, riguarda le nostre economie, il nostro mondo, il nostro futuro. E se possiamo permetterci di trattare questioni che non sono poi troppo sulla cresta dell'onda al momento, quindi seguendo algoritmi, ottimizzando al millimetro i contenuti, è perché ci sono alcuni di voi che finanziano direttamente lo show. Lo abbiamo detto spesso, ma continuiamo a ripeterlo, Breaking Italy e tutto l'universo che gli gira attorno si sostiene su gambe rappresentate da una manciata di abbonati che ogni mese investono alcuni euro con un abbonamento al Breaking Italy Club, che poi noi utilizziamo per finanziare tutte le nostre operazioni e le nostre avventure. Se ancora non foste iscritti e voleste darci una mano, vi assicuro al 100% farà la differenza, Breaking Italy.club oppure il link in descrizione. Ed è tutto, ed è tutto. E adesso facciamo un piccolo salto indietro alla settimana scorsa, al weekend della settimana scorsa. Domenica scorsa, infatti, si è parlato, forse non abbastanza, dell'intervista esclusiva della RAI al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato dal direttore del TG1, Gianmarco Chiocchi. Zelensky non solo ha fatto il punto della guerra e degli aiuti militari, che sono questioni centrali per il conflitto, ma ha anche analizzato quella che è la situazione interna del paese a quasi due anni dall'inizio della guerra con la Russia, soprattutto in chiave politica e militare. Ma andiamo con ordine. Uno dei passaggi più importanti, ripreso anche dalla stampa internazionale, arriva circa a metà dell'intervista, quando alla domanda su un possibile licenziamento di Valery Zaluni, il comandante delle forze armate ucraine, Zelensky dichiara, senza entrare nel dettaglio, che sarà necessario un ricambio generale di una serie di dirigenti del paese, non solo a livello militare, senza però di fatto confermare o smentire la possibilità di un licenziamento per Zaluni. Proprio su di lui è necessario che ci fermiamo un attimo, anche se realisticamente la maggior parte di noi questo nome non dirà nulla, perché le distanze tra i due sono ampie e riguardano soprattutto le modalità con cui l'Ucraina sta portando avanti la guerra. Il generale, nominato comandante nel 2021, ha avuto un ruolo molto importante, soprattutto nel primo periodo del conflitto, cosa che lo ha reso un individuo abbastanza popolare, che è già un elemento curioso, perché in genere i generali sono abbastanza invisibili all'opinione pubblica, e ci sono delle ragioni. Nell'ultimo anno, infatti, i rapporti con il presidente Zelensky si sono deteriorati, sia per le decisioni prese a livello militare, in particolare per la controffensiva della scorsa estate, sia per alcune dichiarazioni rilasciate proprio dal generale Zaluni lo scorso novembre, cosa che ci porta alla peculiare situazione di un conflitto tra il de facto leader del paese e il leader delle sue forze armate. In un'intervista al giornale statunitense The Economist, infatti, Zaluni aveva dichiarato che la guerra contro la Russia fosse arrivata a una situazione di stallo, contraddicendo così l'ottimismo manifestato da Zelensky in pubblico. Come ovvio, le parole di Zaluni avevano quindi portato a una spaccatura interna, concretizzatasi prima con il rimprovero in pubblica piazza dello staff di Zelensky, che aveva accusato i vertici militari di generare il panico tra gli alleati, e poi con il licenziamento del vice di Zaluni, senza che questa decisione fosse sufficientemente motivata, diciamo, perlomeno ufficialmente. Arriviamo quindi ai giorni nostri, perché le notizie su un possibile licenziamento anche del generale Zaluni hanno cominciato a circolare, soprattutto tra i medi ucraini, e la situazione sembrava ormai compromessa, con il New York Times che riporta come questa richiesta di dimissioni da parte di Zelensky ci sarebbe già stata e avrebbe portato a un iniziale rifiuto dell'interessato. E il tema che ci si pone è quanto questo conflitto possa portare a un'instabilità interna. Realisticamente, infatti, Zaluni sarà popolare anche nell'esercito, in un momento in cui non è chiaro in che modo si declinerà questo conflitto, in cui molto ha a che fare il tema degli avamenti, ma soprattutto ha a che fare la volontà degli ucraini di continuare a combattere, che mi sembra un elemento che noi continuiamo a ignorare, che gli ucraini non sono dei pupazzi, non sono messi lì, sono delle persone con un'opinione pubblica che può cambiare nel tempo, anche drasticamente. Mentre infatti noi abbiamo il lusso di poterci essere dimenticati di questo conflitto, la maggioranza della popolazione ucraina ci deve avere a che fare giornalmente, ed è difficile immaginarsi la motivazione e lo stato psicologico sia di chi è al fronte, sia di chi viva nelle città, nessuna delle quali è peraltro mai al sicuro da attacchi e bombardamenti. Per dire, proprio oggi il Parlamento ucraino ha approvato il decreto con cui Zelensky ha esteso per l'ennesima volta la mobilitazione generale e l'applicazione della legge marziale, che sostanzialmente significa che se sei idoneo devi prestare servizio militare, che ti piaccia o no, che tu voglia o no. E questo in un contesto in cui manca tutto, e dove l'assenza di munizionamento per i civili coscritti e mandati al fronte significa persino perdere terreno e realisticamente anche sentirsi abbandonati. Io non lo so, noi non lo sappiamo, noi non ne abbiamo idea, perché questa roba non è più raccontata, è estremamente difficile da far uscire e anche da comprendere, da metabolizzare. Quello che è stranissimo pensare è che il governo debba comunque proseguire per questa strada qui, ovvero cercare un profilo altrettanto popolare, che possa in qualche modo rappresentare una figura amata, di unità nazionale. Non puoi semplicemente metterci qualcuno a caso, un generale per quanto bravo. E infatti è pazzesco che ci sia il Totonomi, che arriva persino a noi, con il favorito che potrebbe essere Kirill Obudanov, un 38enne a capo attualmente dell'intelligence militare. Detto questo, in chiusura, c'è probabilmente un fatto che vi è evidenziato in questa narrazione un po' scostante del conflitto russo-ucraino. Cioè che ieri si è data la notizia, non molto nel nostro paese in realtà, del fatto che il famoso giornalista americano di estrema destra Tucker Carlson, cacciato persino da Fox News e che ora ha intrapreso una carriera da solista sul web, potremmo dire, sia stato visto in Russia. E per quanto non sia confermato, pare potrebbe essere il primo giornalista occidentale dall'inizio della guerra a intervistare Vladimir Putin. Non è un caso, attenzione, la narrazione russa è che Carlson sia stato l'unico americano ad aver detto la verità sull'operazione militare speciale, quindi la verità del Kremlin sostanzialmente, e sia per questo stato cacciato. Ma al netto di questo, un dialogo tra Zelensky e Putin è quantomeno improbabile, sia a questo punto del conflitto che in qualsiasi altro. Realisticamente uno dei due leader dovrebbe saltare, essere sostituito. E la cosa più vicina a un confronto tra i due, almeno per capire cosa vogliano, cosa si aspettino da questa guerra, è ascoltare singolarmente le voci di entrambi, anche se questa voce dovesse arrivare da un personaggio come Carlson. Per il resto, ottimo lavoro TG1, ottimo lavoro direttore del TG1, io Melonia, io, allora io l'ho detto, io, io, bandierina, io Melonia, io mi cerco, bravi, era italiana, l'Italia chiamò, l'Italia chiamò, questo è un grande momento. La smetto. Quante volte vi è capitato di andare da un alimentari e chiamarlo il Bangla, oppure in un negozio di vestiti oggettistica chiamandolo il Cinese, o ancora il Pakistano? Ecco, pare che questa pratica sia in realtà diffusa in altri paesi europei, come la Francia o la Spagna, e oggi parliamo proprio di quest'ultima, dato che due studenti a Barcellona hanno avviato una campagna chiamandola Tengo Nombre, quindi Ho Un Nome, che vuole mettere un punto all'utilizzo dalla provenienza dei proprietari di un negozio per definire il negozio stesso. Come anticipavo, tutto è partito dall'iniziativa di due studenti di una scuola per agenti pubblicitari spagnola, di nome Brother Barcelona, che, dovendo inventarsi una campagna che puntasse all'inclusione sociale, hanno notato appunto questo fenomeno qui. Quando si parla di negozi, bar, ristoranti, alimentari, che i proprietari siano stranieri, si tende, dicono, a identificare il posto con la loro provenienza, cosa che, seppure abbia un senso logico ci arriviamo, rimarrebbe, secondo loro, un'espressione di razzismo, perché di fatto traccerebbe una divisione tra le attività locali e altre di origine straniera, e peraltro solo di alcune origini, perché, viene fatto notare, tra chi sia d'accordo, la stessa cosa difficilmente accade per qualcuno che venga dalla Germania o dal Belgio. Io non sono d'accordo, metto subito le mani avanti, io non sono d'accordo, adesso ne parliamo, però prima cerchiamo di capire di che cosa si tratti. Dopo aver notato il fenomeno, comunque, i due studenti, che chiameremo con i loro cognomi Sanchez e Porras, hanno fatto un giro per un quartiere di Barcellona, Poblenau, che si trova qui, sul mare, facendo quattro chiacchiere con alcuni proprietari di negozi di questo tipo, attaccando poi alle porte di chi volesse partecipare un avviso, con un cartello che invitava appunto a chiamare queste persone per nome, e non per etnia e per provenienza geografica. Ora, la ragione per cui ne parliamo è perché questa notizia è in qualche modo finita nel mainstream giornalistico, fate conto che la pagina Instagram della campagna ha appena 9000 follower e pochissimi post, è una di quelle cose che i giornali definiscono un incredibile fenomeno social, senza poi andare a verificare quanto incredibile sia questo fenomeno, ma è effettivamente un tema, e siccome ho notato che parlarne ha acceso la redazione, ne parliamo anche noi per un attimo, e io salgo il cattivo in questa situazione perché io non lo ritengo razzista. Il fatto che questa pratica sia diffusa in vari paesi europei, infatti, non è un caso. Spesso ci sono delle caratteristiche oggettive che accomunano ad esempio i negozi di oggettistica i cui proprietari siano cinesi, cioè essenzialmente la tipologia di articoli che vi troviamo all'interno. Se io dico vado in un negozio pakistano, vado in un negozio cinese, so esattamente di cosa sto parlando, so che articoli andrò a trovare, ed è una cosa che non posso dire riguardo ad altre categorie, ad altre nazionalità. Non posso dire vado nel negozio tedesco, perché le comunità tedesche in Italia non hanno la caratteristica di aprire negozi tutti simili che vendono oggetti simili. E lì il punto. Questo ovviamente non significa che il problema non esista. Anzi, alcune delle persone intervistate hanno commentato come la volontà di integrarsi da parte loro ci sarebbe, soprattutto quando vivono in un posto per tanto tempo, ma che sia difficile senza il supporto della comunità locale, dato che il fatto di essere identificate con la propria provenienza non aiuti. Ed è giusto, ma credo che le due cose non necessariamente si tocchino, perché i luoghi nei quali l'integrazione arriva agli step successivi, visto che sappiamo che ci sono sempre delle fasi generazionali di integrazione, queste differenze tendono ad affievolirsi. Un professionista che apra uno studio d'architettura difficilmente sarà identificato come il cinese o il pakistano, che di nuovo a me sembra in questi casi identificare più il tipo di attività che l'etnia della persona che ci lavora. Poi potremmo anche aprire tutto un filone di ragionamento sul perché allora le persone di una certa etnia tendono ad aprire tutte quante lo stesso tipo di negozio. Come mai succede questa roba qui? Ci sono delle ragioni etniche, ci sono delle ragioni di convenienza, ci sono delle ragioni di comunità che si aiutano vicendevolmente e quindi finiscono per aprire sempre le stesse cose. Lì potremmo effettivamente aprire un discorso molto grande perché è molto interessante, però sul discorso razzismo non lo può essere. Tutto può essere razzista, però in questo caso ho delle perplessità. Per il resto vi leggo e sono sempre pronto a cambiare opinione, sinceramente. Sono abbastanza dell'idea che molto spesso non basti essere passivamente antirazzisti, quindi evitare di avere pregiudizi nei confronti di un'altra persona, su una base etnica, ma a volte sia necessario esserlo attivamente per fare la differenza, quindi essendo anche pronti a rimodulare il proprio modo di agire e di pensare e di parlare senza essere ben altristi. Quindi al solito consultare direttamente le comunità discriminate è un ottimo punto di partenza, ma anche confrontarsi con altri. Quindi vi leggo nei commenti. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, mi raccomando breakingitaly.club oppure il link in descrizione per supportarci in quello che facciamo. Tutto quello che facciamo è finanziato direttamente da voi e quindi ve lo ricordo ogni quattro secondi. No, non è vero, però ci tengo, lo sapete, è importante. Quindi mi raccomando, cari... Oggi c'è San... Oggi inizia Sanremo. Io sono esausto. No, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. Grazie.